Presidente, sette sconfitte in otto partite, probabilmente uno dei momenti peggiori nella storia dell'Orandina nella Serie A di questa squadra, è il momento di cambiare rotto in qualche modo, avete già le idee chiare su come farlo? Dici benissimo, intanto di momenti peggiori ne abbiamo avuti quando negli anni passati ci è capitato di essere ultimi o di essere a quattro punti alla quota salvezza quando le retrocessioni erano due, quindi è un momento difficilissimo, lo dicono i risultati, ma non è un momento drammatico, non fosse altro perché di giornate ne mancano 18 e quindi la possibilità di riprendere il cammino positivo delle prime quattro giornate direi che c'è tutto, anche perché la squadra a qualità l'ho dimostrato proprio in quelle giornate, l'ho dimostrato anche in alcune circostanze successive, quindi la risposta è all'interno della squadra e cambiare rotta significa far funzionare nuovamente la bussola, questa è la ragione per la quale la mia decisione è stata quella di non procedere al cambiamento che nello sport spesso si invoca, quando le cose vanno male si cambia l'allenatore e si riparte così com'è. Il nostro tecnico, i nostri tecnici hanno sicuramente la loro parte di responsabilità nell'andamento della squadra, ma non sono certamente gli unici responsabili di una china che si è invertita e che ci deve vedere pronti, come dicevi tu, a ritrovare il bandolo della matassa. Come? Mettendo in discussione se stessi, avendo fiducia in chi ti sta accanto e dimostrando da uomo di anteporre la squadra a te stesso. E' questo sostanzialmente l'argomento che ho trattato ieri incontrando i nostri giocatori. Certo, noi non mi appello mai a circostanze esterne, ma se magari la sorte ci schiacciasse un po' l'occhio, dopo averci penalizzato con tantissime infortune, noi abbiamo Stojanovic, il nostro titolare da 3-4 partite, abbiamo perso Nicevic e Iasaitis, che non saranno neanche dalla partita di Trento, dove rischiamo di non avere neanche Tommaso Laquintana, che all'ultima azione dell'ultimo allenamento ha preso una botta piuttosto violenta. Quindi ci sono dei momenti nei quali tutto sembra andare in senso negativo, ma invece sono questi momenti nei quali una squadra dimostra maturità e se sapremo, come sapremo, rimanere coesi e uniti e quindi invertire la china, trarremo proprio da questo periodo la forza e la consapevolezza di dover sfruttare al massimo i momenti positivi che certamente torneranno, perché i nostri tecnici e la nostra squadra sono di un livello superiore a quello che la classifica oggi dice. Lei ha cambiato allenatore soltanto quando l'allenatore non aveva più il polso della squadra, le radini della squadra. Crede che in questo momento ci sia sinergia fra allenatore e squadra? Allora, la sinergia umana credo che non sia mai venuta a meno. Si tratta di professionisti, di gente che si rispetta, fra l'altro sono tutte persone di un'educazione a volte financo eccessiva nella misura in cui mi piacerebbe che quando qualcuno ha qualcosa da dire, la esprima anche fuori dai denti, sapendo che dietro un tono elevato c'è magari più lealtà di quanto non dica una sola apparente tranquillità. Ma questo è un problema che non c'è. Né in termini tecnici credo che ci siano delle difficoltà particolari. Io credo che ci sia un problema di sintonia e quindi di comprensione fra ciò che viene chiesto dai tecnici, ai giocatori e quello che alcuni giocatori fanno in alcune circostanze. Intendo dire che i cambiamenti determinati dagli inserimenti, dalle assenze, dalla presa di coscienza che qualcuno non ha ancora fatto e in questo campionato bisogna lottare ogni giornata abbia ingenerato, non voglio dire sfiducia, ma una ridotta convinzione di una squadra che invece in elementi di sicura esperienza ha certamente la possibilità di trovare risposte in ogni situazione ambientale, tecnica, tattica, prova ne sia che prestazioni come quella di Venezia, come quella di Torino, come quella di Bologna. Stanno ad indicare che questa squadra non deve niente e nessuno. Negli occhi, il tiro di Ileschi all'ultimo secondo contro Varese. Quello sembra il momento nel quale gira. Gira perché non tanto e non solo perché la palla non entra e avremmo vinto la partita, ma perché con quell'azione in quel momento Ileschi comprende che il dolore accusato durante la partita è un infortunio ed ecco che il trend cambia. Però i momenti sono sottili. Domenica non avremmo vinto la partita, al di là dei primi due quarti buttati via, se solo la Quintana non fosse stato estromesso dalla partita con un fischio, a mio avviso, scellerato, diciamo quantomeno dubbio, perché non solo non era il quinto fallo della Quintana, ma era fallo sulla Quintana antisportivo perché la palla era fuori, così come era antisportivo il fallo subito da Ileschi nel corso del secondo quarto, perché quando un giocatore viene spinto senza intenzione di prendere la palla la regola dice che il fallo è antisportivo. Ma non è questo che voglio dire per giustificare una prestazione, quella contro Pesaro, che ritengo insufficiente. E non voglio togliere meriti a Pesaro che ha vinto quella partita dando il meglio di ciò che aveva. Voglio evidenziare di come a volte bastano dettagli per girare l'interruttore dal negativo al positivo. E noi dobbiamo essere pronti ad avere questa occasione, quindi non dobbiamo recriminare, dobbiamo sapere che i punti che abbiamo sono quelli che meritiamo, ma dobbiamo anche sapere che l'occasione per girare c'è. E io la guardo all'interno di questa squadra, con questi tecnici e con questo organico. Quindi diciamo nessun ritorno al mercato in nessun caso? Se le cose non andranno come devono, è chiaro che interverremo. La Serie A è un patrimonio conquistato con sudore, con fatica, che difenderemo con tutte le nostre risorse, che non sono illimitate ma che sono importanti e che ci porteranno a calibrare anche eventuali interventi. Penso e credo che non ce ne sia bisogno, credo che se oggi dovessimo ripartire da capo probabilmente dovremmo pensare a intervenire prima nel parco giocatori che nel parco tecnico. Questo lo dico perché anch'io ho sentito i fischi di domenica, anch'io sento l'umore del pubblico e capisco che certe vicende possono non essere comprese. Stojanovic ha fatto due bombe ed è stato sostituito. Pochi hanno visto, se non chiedete la mia prospettiva, che Stojanovic chiede il cambio perché riprende fiato e un ragazzo che sta prendendo condizione e magari il ragazzo è caldo, on fire, come si dice, ma prende due minuti e riprende con la sua stessa continuità. Quindi a volte si banalizza da parte del pubblico ma lo si fa istintivamente nello spiegare quello che non va. Io credo che la squadra debba fare il proprio dovere, gli allenatori debbano fare il proprio dovere, io credo che debba farlo anche il pubblico, stimolando la squadra, sostenendola, perché quando da una scintilla della squadra nel terzo quarto si è ricreata la sinergia fra il pubblico di Capodorlando che ha reso i parafantozzi famosi e la squadra, noi non temevamo più nessuno. Se noi pensiamo domani a questa partita che vogliamo giocare e vincere con Trento e dopo soli quattro giorni saremo di nuovo al palafantozzi, se noi pensiamo che al palafantozzi contro la rinnovata e forte Avellino sia possibile vincere senza il pubblico o senza la squadra, ci sbagliamo tutti. Quindi l'auspicio è che la sinergia si crei da subito. Sono comunque contento di ancora una volta giunga Natale con Capodorlando in Serie A, se il campionato finisse oggi saremmo salvi, saremmo oltre l'obiettivo stagionale del tredicesimo posto, siamo a quattro punti dall'ultima posizione playoff. Insomma, io credo che è giusto essere preoccupati e attenti, ma altrettanto doveroso essere fiduciosi e positivi.